Scompare nel lago di Mergozzo, recuperata dai vigili del fuoco dopo 20 minuti, 39enne gravissima, ricoverata a Novara. A extra il confronto tra i candidati al ballottaggio di Verbagna, Gian Domenico Albertella e Riccardo Brezza. Al via l'esame di maturità, tra le tracce più gettonate e quella sul diario nell'era digitale, domani la prova che fa più paura. Asilo Connelli, raggiunto il numero minimo di iscrizioni per la riapertura, in passato raccolte 10 adesioni a sostegno del progetto. Successo per l'ultima serata di giugno insieme con DJ Fargetta, domani la festa del solstizio in piazza Rovereto. Al via domani a Macugnaga, gli europei di calcio dei paesi di montagna, 8 nazioni partecipanti, l'Italia esordisce con la Svezia. Ben ritrovati a una buona serata dalla redazione di VCO Notizie, la cronaca in apertura di giornale con una donna di 39 anni scomparse nel lago di Mergozzo mentre stava facendo il bagno. Subito sono scattate le ricerche, è stata recuperata dai vigili del fuoco dopo 20 minuti e è stata portata all'ospedale di Novara in gravissime condizioni. Versa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Novara, la nuotatrice di nazionalità ucraina, residente nel VCO che nel pomeriggio di oggi è rimasta sott'acqua nel lago di Mergozzo a 18 metri di profondità per circa 20 minuti. È successo davanti alla spiaggia dei quattro pilastri, una spiaggia situata fuori dall'abitato di Mergozzo è accaduto poco dopo l'ora di pranzo. La donna si era recata al lago con il compagno e ad un certo punto ha deciso di trovare il refrigerio nelle acque del lago, un bagno veloce, ma di lei in pochi minuti non c'è stata più traccia ed è stato proprio l'uomo in sua compagnia ad allertare i soccorsi. In spiaggia attorno alle 13.30, quando si è verificato il fatto, c'erano altri bagnanti che increduli hanno assistito alla scena. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi, personale sanitario, volante della Polizia di Stato, agenti della Municipale, sul posto anche i vigili del fuoco di Berbani e colleghi sub oltre all'elicottero. Sono stati i propri sommozzatori a ripescare la donna che poi è stata a lungo sottoposta a manovre rianimatorie da parte del personale sanitario. valutate le sue condizioni di salute, è stato disposto il trasferimento appunto a Novara. A seguito del fatto, il traffico lungo la provinciale di Mergozzo è stato deviato su una sola corsia, personale della Municipale e Polizia di Stato si sono alternati nel regolare la viabilità. Voltiamo pagina verso il ballottaggio a Verbania, vediamo le posizioni della candidata del centrodestra Mirella Cristina e del civico Patrick Ravaini. Nessuna indicazione di voto se non quella di evitare le schede bianche che non rappresentano alcuna espressione di voto ormai non sono più una forma di protesta. Detto questo farei due considerazioni sui candidati, una politica e l'altra più personale. La candidata del centrodestra Mirella Cristina prende posizione e spiega, segnalo doverosamente a chi mi ha votato, che il candidato Brezza ha condotto una campagna elettorale corretta di tutto rispetto, mentre il candidato Albertella non si è fatto mancare una campagna elettorale di bassa bottega nei confronti della mia persona, con uscite certamente stigmatizzabili. Agli elettori dico di scegliere uno dei due candidati, quello che a loro ispira più fiducia, guardandolo in volto e negli occhi all'insegna di una politica giovane, sana, chiara, lontana da giochi di poltrone, principi che mi hanno sempre guidata. Nessuna indicazione di voto neanche dal candidato Patrick Ravaini, che ha indetto una conferenza stampa con la sindaca uscente Silvia Marchionini. Noi c'eravamo detti aperti al dialogo con tutti sui programmi, dice Ravaini, ma non siamo stati chiamati. Lo diciamo con rammari, come abbiamo preso atto della chiusura, in particolare da quella parte politica con la quale mi sarei aspettato un confronto. Nessuno ci ha chiesto di partecipare sui programmi alla battaglia del ballottaggio e quindi staremo in opposizione, con un ruolo non del no a prescindere, ma molto attenta da parte di persone che hanno una conoscenza approfondita del comune. Ha aggiunto Ravaini, invito i nostri elettori a fare una valutazione sulla persona che ritengono più capace di amministrare Verbagna. E Marchionini ha chiesto ai candidati a ballottaggio di esplicitare cosa intendono fare con la Tari, proponendo di usare l'avanzo di amministrazione per non far pesare gli aumenti sulle tasche dei cittadini e ancora di pensare a un fondo per indennizzare i commercianti di Intra e dichiarare cosa intenderanno fare con le indennità di carica ridotte nella sua amministrazione. Infine Marchionini si è augurata che non ci sia un clima di rilassatezza in comune riguardo la necessità di portare a termine tutti i cantieri presenti in città. E a proposito del ballottaggio, Gian Domenico Albertella e Riccardo Brezza sono gli ospiti questa settimana di Extra. Pochi giorni dal secondo turno elettorale, Maria Elisa Gualandris ospita in studio i due aspiranti sindaco. Extra in onda il mercoledì alle 20.30 e oltre alle consuete repliche questa settimana andrà in onda anche venerdì in prima serata alle 20.30 nel tradizionale orario dedicato al sasso nello stagno. A Baceno si è ufficialmente insediata la nuova amministrazione comunale. Con la convalida degli eletti prima e il giuramento del sindaco poi, martedì pomeriggio ha preso avvio il secondo mandato del sindaco di Baceno, Andrea Vicini, uscito trionfante, candidato unico alle elezioni dell'8 e 9 di giugno. Suo vice per i prossimi cinque anni sarà Graziano Villiborghi, assessore, stato invece nominato Stefano Costa. Si tratta di un avvicendamento rispetto al governo passato, poche le novità anche in seno all'Assemblea Municipale, quasi tutti riconformati con una new entry Alberto De Lucia. Il programma con cui Andrea Vicini si è presentato ai suoi concittadini si sviluppa per macro aree, infrastrutture, turismo, manutenzione del territorio, in campo turistico Vicini, annunciato che lavorerà per potenziare l'offerta e avviare collaborazioni costruttive con i comuni vicini per proporsi come valle Antigorio. A livello di infrastrutture si completerà il rinnovo della pubblica illuminazione, si ammodernerà la rete foniaria e si completeranno gli arredi della palestra della rinnovata scuola cittadina, oltre alle necessarie manutenzioni che il territorio richiede. Sulla sfida futura c'è il reperimento dei fondi necessari per la ristrutturazione del centralissimo edificio Esotta, stabile e situato nelle vicinanze del municipio. Prima giornata di esami di maturità con la prova di italiano. Abbiamo incontrato all'uscita alcuni maturandi dell'Istituto Ferrini di Verbagna, tra le tracce più gettonate, quella sul diario nell'era digitale, ma le prove che fanno più paura sono quella di domani e poi l'orale. Quale argomento hai affrontato? L'imperfezione e ho collegato la scuola, il lavoro, l'immigrazione, il razzismo e i disturbi alimentari. C'erano delle tracce con spunti interessanti secondo te, ci sono piaciute? Sì, erano tutte abbastanza interessanti. Tu hai dormito stanotte? No. Quale argomento hai trattato? L'elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcino. E le tematiche erano interessanti, erano belle, ti sono piaciute? Ma sì, belle, poteva andare meglio. Nella fine si pensava a un'intelligenza artificiale o ad altro, alla violenza di gene, però ci hanno stupito in questo modo, diciamo. Qual è la prova che ti preoccupa di più? Probabilmente l'orale, magari, perché è quella che è più complessa, non sai cosa aspettarti, da dove partire, come continuare, però gli scritti, in teoria, sono le più tranquille. E come ti sembravano le tracce fattibili? Sì, sì, sì. Come ti sei preparato? Ma ho letto un po' di notizie, nulla di impegnativo, ecco. Hai dormito stanotte? Sì, sì. Qual è la prova che ti preoccupa di più? Ma nessuna, devo dire, sono abbastanza tranquillo. Che cosa hai parlato? Del diario, del diario segreto, dell'uso dei social. E' un argomento molto gettonato, questo dei social. Qualità, sì, sì. Perché lo sentite molto? Certo, quasi sempre. Cioè, è un argomento di tutti i giorni, no? Ho fatto anche io la traccia C2. Quale argomento? Eh, quello dei social, collegato anch'io. Beh, come i social stanno, diciamo, un po' divulgando troppo tra i giovani, e che sta diventando un po' un abuso. E questo, sì. Ti preoccupava l'appuntamento di oggi? Ma, un po', sì, dai, sinceramente, un pochettino, sì. Ma qual è la giornata che ti fa più paura? Eh, domani che abbiamo economia, domani è più tosta. Sei soddisfatto? Sì, dai, abbastanza. Quale argomento hai affrontato? Quello dei social. Quindi il diario, che non è più un diario cartaceo, ma... Sì, sì. E le tracce, come ti sembravano? Fattibili, interessanti? Fattibili, dai, soprattutto le C. C'è uno sui due. Quali sono, qual è la prova che ti fa più paura? Eh, quella di domani. Quindi i numeri. Sì, come tutti gli altri. Ed ora a Belgirate per raccontarvi del lavoro in corso a livello burocratico per favorire la riapertura a settembre della scuola dell'infanzia Conelli. I dettagli nel servizio. Il Comune di Belgirate ha già raccolto dieci adesioni per la riapertura della scuola d'infanzia Elena Connelli, chiusa un paio di anni fa. La dirigente scolastica Gabriella Cominazzini e il sindaco Flavia Filippi si sono attivate per raggiungere le dieci iscrizioni in numero minimo per far ripartire il plesso, ora aggregato alla rebola Fogazzaro di Stresa. In questi giorni il sindaco di Belgirate ha inviato una lettera all'assessore della regione Piemonte Elena Chiorino, all'ufficio scolastico regionale del Piemonte e a quello dell'ambito territoriale del VCO. Filippi scrive, il Comune di Belgirate dopo l'incontro del 16 aprile 2024 e alla successiva comunicazione del 17 aprile sta attendendo la riattivazione del codice meccanografico per consentire la ripresa delle procedure previste dalla normativa in merito alla riapertura della scuola statale d'infanzia di Belgirate. La Filippi ricorda le opere eseguite per mantenere idonea la struttura scolastica. Il Comune ha investito 80 mila euro nella completa accessibilità della scuola, ora terminata e pronta. Nel passato sono stati installati pannelli fotovoltaici per una migliore sostenibilità. Nel corso di quest'anno sono state raccolte le iscrizioni di dieci bambini appartenenti al Comune e ai centri vicini. La nostra amministrazione intende inoltre investire nel mantenimento del plesso, nato oltre cento anni fa a seguito di una donazione. Intendiamo in modo gratuito offrire il servizio di prepo a scuola per l'anno scolastico 2024-2025. Tutto questo al fine di mantenere l'istituzione e promuovere la socializzazione come senso di comunità che è una scuola di fondo nel territorio, soprattutto nei piccoli comuni marginali come il nostro. La dirigente scolastica Cominazzini aggiunge «Abbiamo inviato questa pecca agli enti coinvolti nella riapertura della scuola d'infanzia. Confidiamo nella possibilità di ricominciare dal momento che abbiamo ottenuto le dieci iscrizioni previste e tutti i lavori sono terminati. Intanto i genitori dei dieci bambini sono in attesa per capire dove i loro figli andranno per le lezioni a settembre». Ha preso servizio a Verbania con le funzioni di questore il dirigente superiore della Polizia di Stato Giancarlo Conte, romano, 58 anni. Conte ha una lunga carriera cominciata alla Polizia di Frontiera in provincia di Bolzano che poi l'ha visto impegnato in diversi ruoli soprattutto in Trentino Alto Adige e Veneto. Conte si è distinto per un'articolata attività investigativa tra il 2000 e il 2001, estesa anche alla Germania e Austria, la prima applicazione in Italia della legge Mancino in tema di incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali nei confronti di un gruppo di 12 connazionali di lingua tedesca appartenenti al gruppo transnazionale neonazista Blood & Honor e subito dopo per il Veneto Fronteskin. E poi ancora svolto tra il 2003 e il 2005 le prime indagini in Italia nei confronti dei componenti altoatesini delle due più note bande motociclistiche fuori legge in Europa, i bandidos e gli Hells Angels a seguito di numerosi episodi di violenza, risse e pestaggi culminati con un omicidio. Incontro informativo degli amici dell'oncologia a Villa Giulia a Verbania, il prossimo evento promosso dall'associazione sarà a Domodossola. Gli amici dell'oncologia incontrano la popolazione a Villa Giulia, quest'oggi a Verbania, è uno dei tanti incontri che avete organizzato, perché? Allora questa è la terza tappa, la prima tappa è stata a Domenia, poi a Domodossola e adesso a Villa Giulia a Verbania. Sono incontri rivolti ai cittadini per creare degli spunti di riflessione su come vivere in salute e su come nel quotidiano cercare di vivere meglio dal punto di vista psicofisico e cercando chiaramente di stare alla lontana il più possibile da una malattia oncologica. Qual è la prima regola da mettere in pratica? La cosa più importante? Ma sono parecchie regole, ce le dà anche il codice europeo, comunque naturalmente la prima è la prevenzione e poi ci sono però tutti delle regole di vita quotidiana che noi purtroppo non rispettiamo, ma anche banali e invece vanno rispettate. Per esempio? Per esempio l'alimentazione, l'alimentazione è importantissima, una corretta alimentazione, noi mangiamo tanti prodotti con tanti conservanti, prodotti che comunque non sono adeguati per una buona salute, per cui è giusto seguire una corretta alimentazione, è giusto evitare alcuni alimenti di cui noi invece facciamo uso quotidianamente. Il prossimo appuntamento con l'associazione sarà a Domodossola? Sì, all'11 luglio faremo un evento all'Etto, Bar Etto a Domodossola e la raccolta fondi è dedicata all'oncologia di Domodossola. Ancora non abbiamo deciso cosa acquistare ma comunque la raccolta fondi è dedicata all'oncologia di Domodossola. E apriamo proprio la pagina dedicata agli eventi che propone il territorio, andiamo a Domodossola dove ieri sera si è conclusa la festa del giugno insieme organizzata all'interno del Parco Rosmini. Nei cinque giorni di eventi il pubblico ha dimostrato di apprezzare il ritorno della festa patronale e si spera ora nell'arrivederci al 2025. Carato il sipario su giugno insieme edizione 2024 è tempo di primi bilanci. A livello economico tireremo le somme solo nei prossimi giorni. Un dato però è certo, la gente ha apprezzato lo sforzo fatto. Abbiamo verificato che c'è ancora tanta voglia di ritrovarsi e di stare insieme. Il primo commento di Vanda Cecchetti. La presidente della Prodomodossola sul futuro della festa al momento non vuole sbilanciarsi ma considera la risposta data dalla città ai cinque giorni di festa buona. Bene anche la sinergia che ha visto collaborare per l'organizzazione degli eventi. La Prodomo insieme per un dono in Matibellula ha apprezzato la cucina proposta ogni sera dagli chef locali. Successo ieri per il McDom con i prodotti tipici del territorio che sono stati i veri protagonisti. Anche gli eventi serali scelti da Corollario alla festa hanno funzionato bene. Ieri sera il gran finale con DJ Fargetta. Annunciato per le 21.30 il regista radiofonico invece è salito sul palco con il calarde buio e da quel momento la piazza è letteralmente impazzita scatenandosi sulle note dei vari bani proposti. Corgetta non ha lesinato selfie, ha dato grande importanza al progetto dell'associazione Matibellula che nel ricordo della piccola Matilde Cara intende sviluppare anche nel futuro sul territorio il servizio delle cure pediatriche palliative. Riuscito insomma al format della festa nata sul ricordo della patronale Domese che negli anni 90 sapeva unire solidarietà e divertimento facendo diventare il capoluogo solano culla degli eventi valligiani di inizio estate. A Madonna del Sasso la seconda edizione di Minatori del Suono Fest da venerdì a domenica. Torna a Minatori del Suono Fest, seconda edizione del festival diffuso Madonna del Sasso. Tre giorni di musica dal vivo, concerti, laboratori, incontri, escursioni, campeggio. Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno. Minatori del Suono Fest non è solo bella musica, è anche cultura, territorio, socialità. Anche quest'anno è attivo il crowdfunding a cui si può partecipare per dare il proprio contributo alla realizzazione dell'evento. L'ingresso e l'accesso a tutti i concerti sono gratuiti. La Tre Giorni è organizzata dal Circolo Arci dei Lavoratori di Boleto con il contributo del Comune di Madonna del Sasso e il sostegno di Fondazione Comunitaria del VCO e Fondazione Compagnia di San Paolo. L'iniziativa vede impiegati tanti volontari e quello di quest'anno è un ritorno convinto e voluto dopo quasi 2000 presenze nel 2023. Il festival continua a coinvolgere molti giovani del luogo e vuole essere uno spazio libero di aggregazione, punto di riferimento per arte e cultura contemporanea. Un evento accessibile a tutti che rispetta l'ambiente e valorizza il territorio, riscoprendo la storia degli scalpellini del Circolo Operaio Locale, promuovendo il turismo lento e sostenibile a supporto dei piccoli borghi e delle loro peculiarità. Sabato prossimo, 23 giugno, presso la Sala Pertini in Municipio Alesa, in programma una giornata dedicata a naturopatia e benessere. L'evento ha l'obiettivo di divulgare la conoscenza delle varie discipline naturali, olismo, tecniche dedicate al benessere. a partire dalle 9.30 fino alle 17 circa, spazio dunque a dibattiti, conferenze e incontro con professionisti del settore. Carlo Bava, all'appetito, viene leggendo questa sera, presenta il suo primo romanzo Un palto fuori stagione, appuntamento su VCO Azzurra TV il mercoledì alle 21, il giovedì alle 14 e il venerdì alle 18 e poi naturalmente sui nostri social. Un palto fuori stagione, ecco, come nasce questa storia? Questa storia nasce sui ricordi che mi ha lasciato mio padre, i ricordi di mio padre quando quindicenne è scappato al rastrellamento che era cominciato a Cannobbio il 9 settembre del 44 ed è scappato perché pur essendo quindicenne, era alto due metri, lavorava da quando faceva la quarta elementare, quindi era un omone e nessuno ci credeva, soprattutto di chi pensava fosse un renitente alla leva, nessuno credeva al fatto che avesse 15 anni, era già stato fermato e portato in questura due volte, però era riuscito a cavarsela grazie a degli amici più grandi di lui che lavoravano per l'industria bellica a Intra, quindi avevano testimoniato che lui fosse un quindicenne davvero. Quella mattina invece mio nonno ha deciso che dovesse scappare insieme al fratello che invece era sì renitente, era nascosto dall'8 settembre del 43 in casa e mio nonno ha deciso che dovessero scappare tutte e due e la scelta non è stata da poco perché il compagno di scuola di mio padre è sulla lapide a Cannobbio, non è più tornato. Non è più tornato. Per cui ho messo insieme questi ricordi perché non mi ritengo uno scrittore, io mi ritengo un contastorie e mi sembrava una storia che valesse la pena lasciare. Il calcio prenderanno il via domani a Macunyaga gli europei dei paesi di montagna, l'Italia esordisce alle 19 contro la Svezia. Non solo Euro 2024, con i campionati europei di calcio in Germania in pieno svolgimento infatti anche la nostra provincia si prepara a ospitare una rassegna continentale. Si tratta dei Bergdorfem, i campionati europei dei paesi di montagna, che si terranno quest'anno per la prima volta nella loro storia in Italia e più precisamente a Macunyaga. Le regole della rassegna, in cui competeranno oltre alla nostra nazionale le selezioni di Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Svezia e Svizzera, prevedono la partecipazione di calciatori appartenenti esclusivamente al mondo dilettantistico. Niente professionisti dunque tra i 15 calciatori della rappresentativa Piedimulera-Macunyaga selezionati da mister Aldo Noce, ma tanti volti noti delle categorie dilettantistiche provenienti soprattutto dai campionati di promozione prima e seconda categoria. Le squadre sono state inserite in due gironi, il girone A con Austria, Germania, Inghilterra e Olanda e il girone B con Italia, Francia, Svezia e Svizzera. Si giocherà su un campo di dimensioni ridotte, a otto giocatori. Le partite, a cui sarà possibile assistere gratuitamente, dureranno 45 minuti l'una, divise in due tempi. Il calcio d'inizio della prima sfida, che sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura e vedrà protagoniste Austria e Germania, è previsto per le ore 16 di domani, giovedì 20 giugno. L'esordio degli azzurri, contrapposti alla Svezia, è invece previsto per le 19. Domenica sarà il giorno clou. A partire dalle 9 si risputeranno infatti tutte le partite della fase eliminazione diretta, dai quarti alla finalissima, in programma intorno alle 18. A seguire le premiazioni è una grande festa animata da DJ Chris e DJ Stanny. E ora la corsa in montagna si avvicina infatti sempre più al momento del Monte Rosa Estima Lion Trail, in programma sabato 29, domenica 30 giugno. In questa pazza estate bisogna fare i conti con cambi di percorsi anche per manifestazioni importanti come il AMET. Vi siete dovuti armare di tanta pazienza Paolo per cambiare i percorsi, però le risposte con numeri discretti e mobilitazione è notevole. Sì, abbiamo dovuto rivedere tutti i percorsi perché le parti alte non si possono correre a causa neve, ci sono ancora cumuli di 4-5 metri di neve ai 3.000 metri, quindi evidentemente non ci sono le condizioni di sicurezza perché sono tutti sentieri in contropendenza e quindi il rischio di scivolare, farsi davvero male o incidente magari addirittura fatale è altissimo. e quindi abbiamo dovuto studiarci delle variazioni con dei percorsi che vanno verso la bassa valle, verso il comune di Calasca, per andare a trovare quasi chilometri identici. I dislivelli chiaramente non sono uguali perché ovviamente non si fanno dei passi a 3.000 metri, però siamo andati vicini a quello che erano i percorsi originali, quindi pensiamo nelle condizioni appunto di emergenza di aver offerto un'alternativa valida. Le iscrizioni stanno andando bene, come ci si scrive? Ci si può anche scrivere nell'imminenza della gara? Sì, le iscrizioni sono ancora aperte online sino a mercoledì prossimo, invece ci si può scrivere anche di persona fino a questa domenica qui da Sportway a Gravelona Toci e anche a Pernate. Sì, le iscrizioni stanno andando ancora bene soprattutto per le gare un po' più corte diciamo, quindi parlo della 14 chilometri, la 22, la 38, ma anche la 55, chiaramente le ultra e quindi era la 100 che adesso è diventata 85, in quelle le iscrizioni diciamo che non saranno più di quelle attuali perché in sostanza chi si iscrive a queste ultra si iscrive con tantissimo anticipo perché proprio le deve preparare, quindi non si possono improvvisare. Siamo ai saluti, vcoazzurativ.it, le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti, grazie per essere state in nostra compagnia, buona continuazione di serata.